Musica Benvenuti a Cirine e Cirine nel video dedicato all'estrazione del vincitore e della vincitrice del giveaway Prima di scoprire insieme chi ha vinto questo bellissimo giveaway Volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno partecipato C'è stata una partecipazione di massa Io non mi aspettavo così tanto scalpore e clamore Devo ringraziarvi perché mi ha fatto tantissimo piacere vedere questa condivisione di massa E questa partecipazione massiccia Io sono rimasto davvero estrefatto Sono rimasto contentissimo anche perché è sempre bello puoi vedere persone che si avvicinano al mondo dell'action figure, del kawaii e compagnia bella Quindi un grazie di cuore a tutti quanti Vi faccio un piccolo spoiler, sto già lavorando a un prossimo giveaway Quindi non dimordiete, continuatemi a seguire perché ne vedrete davvero delle belle Ma adesso bando alle cianci vediamo chi ha vinto Questo è il sito che utilizzerò per la scelta random del vincitore Basterà mettere il link al video nella barra e premere su load Una volta fatto, basterà mettere qui su random Ilenia zappala Un commento, un like, partecipi, comunicatori sono stupendi, spero di essere la fortunata Sarebbe bellissimo Quindi Ilenia vince ufficialmente il giveaway Onde evitare problemi cerchiamo anche il secondo estratto Che nel caso in cui Ilenia non dovesse farsi viva Vincerebbe Il secondo estratto è Federica Borrella Che ha condiviso sia su Facebook che su Twitter Quindi Federica e Ilenia tecnicamente sono le vincitrici Cioè Ilenia e Federica è la seconda Spero che ci abbiate capito qualcosa perché mi sono perso nei meandri Cioè proprio a me queste cose mettono un'ansia passesca Quindi la vincitrice Ilenia ha 48 ore per scrivermi E nel momento in cui non dovesse farsi viva La seconda classificata vincerà il premio E ovviamente subirà la stessa condanna alle 48 ore E poi così random terzo, quarto, quinto e compagnia bella Sì, la parola di oggi è compagnia bella Spero che continuerete sempre a seguirmi Anche perché il canale sta evolvendo, sta cambiando Come potete vedere ogni tanto mi sbizzarrisco Mi invento qualcosa di diverso E il merito di tutto questo lavoro è per il 99,9% vostro Quindi grazie ancora Spero che continuerete a seguirmi E come sempre per ora è tutto Ma solo per ora Assurabili grazie Ci rivediamo al prossimo video Ciao